Ciao a tutti amici di Youtube, sono sempre Riccardo Condemico a questo nuovo video e oggi siamo in un nuovissimo trucco di magia il trucco consiste oggi ne abbiamo una carta in bocca e quella carta in bocca sarà tipo un jack di picche si trasformerà in un'altra carta come è possibile? semplice allora, noi mischiamo il mazzo di carte ok? sto così, perché non ci credete che lo sto mischiando lo mischiamo e noi prendiamo l'ultima carta quando noi facciamo vedere la carta allo spettatore dobbiamo entrare a vedere questa sotto ok ragazzi? questa sotto qua in questo caso il 6 di cuori e la carta allo spettatore è il 10 di picche noi rimettiamo un mazzo così lasciamo uno spazietto quando lo mettiamo così lo mettiamo qua davanti e diciamo adesso mi metterò la tua carta in bocca intanto prendiamo due carte il 6 di cuori e il 10 di picche prendendo due carte tenta farla accorgere allo spettatore e mettiamo in bocca ok ragazzi la mettiamo in bocca vabbè in questo caso lei mette in bocca però sarebbe la metto in bocca dovete dire questo qui era il 6 di cuori cioè tanto dovete avere un altro 6 di cuori nel mazzo e un altro 10 di picche quindi è facile ve la mettete in bocca e fate si è giusto no ho avuto un flash un attimo come on quick good job no ho avuto un attimo 10 e 6 le trovate e mettete qua ma non fate vedere il 6 di cuore ovviamente voi fate così lo tuo corto non c'è più perché c'è perché c'è il 6 di cuore quindi c'è il 6 di cuore, ho sbagliato, non dovete prenderlo ho sbagliato voi andate lì e fate le carte in bocca e li fate lo sto corto è qui non è macchio non è gioco perché qua c'è il 6 di cuore veramente un bellissimo trucco ragazzi spero che vi sia piaciuto lasciate un bel like e noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi non c'è il 6 di cuore